Pairo, che sorpresa vederti qui, da quando abbiamo sconfitto Ripto ad Avalar, che non ci incontravamo. Dopo che sei partito, gli affari andavano male, così mi sono trasferito qui e sono entrato in società con la Magaloc. Mi pagano una fortuna per tenere in gabbia Sheila il canguro. Quell'impertinente deve avere causato un sacco di fastidio alla povera Maga. Ma via, se tu mi allargissi un piccolo contributo potrei... Ah, Spairo, adoro la tua ingenuità. Io spero che apprezzi il favore che ti faccio lasciandoti libera. Sei gentile. Nessun rancore, eh? Esatto. Dopotutto, facevo solo il mio lavoro. Tu devi essere uno di quei draghi. Sì, sono Spairo. Non speravo di vederne uno. Un tempo voi draghi dominavano il mondo, sai? Poi siete spariti di colpo. Puff! I draghi vivevano qui. Non lo sapevi. È stato più di mille anni fa, quanto dicono. E se ne sono andati? Sì, e la crana, una volta spariti, è che tutta la magia del mondo è scomparsa con loro. Pare che questo mondo avesse tanta magia da vendere. Navi volanti, foreste musicali, pietre dei desideri, di tutto. Ma scomparsi i draghi è sparito. Ecco perché dei portali non funzionano. Già, stanno scomparendo anche loro, uno per uno. Beh, torno a casa a sistemare un po' di faccende. Vieni a trovarmi quando vuoi. Vieni a trovarmi quando vuoi. Grazie ancora, Spyro. Ora devo scoprire cosa perfida maga ha alla mia casa mentre ero in... Ehi, Sheila! Mentre non c'eri, un gruppo di Rino che ci ha sbattuti fuori dalle nostre case. Ma è tutto a posto! Bobby, Pete e io hanno un piano geniale per i pre... Ehi, sei la mia casa. Ah no, non c'eri, sei la mia casa. Ma è avuta a traire ancora. Sono un piano geniale per i pre... Virte la mia casa. Ma è quantità? O che c'eri? Molto il piano geniale? Molto il piano. Necola? Ma. Molto il piano è un piano geniale. Sono un piano geniale. Ma è così. Grazie a tutti Per saltare in cima di rupi lipidi come questo devi usare il doppio salto Premi salto, poi premilo di nuovo nel momento esatto in cui tocchi te spiccaro Ah, dolce casa Ecco, tieni. L'ultima volta che ho provato a passare, quell'alce ha lanciato Billy attraverso un muro. Se non ti dispiace, ti aspettiamo qui mentre vai... Non ti dispiace, non ti dispiace. Non ti dispiace, non ti dispiace. No, 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 no. ruba a cornate i rinox stanno a meglio non riusciremo a fermarli se non distruggiamo le loro capanne ma sono troppo grosse per buttarle giù a calci prova a usare l'attacco pestone per schiacciarle io distrarrò i rinox insultandoli mentre tu abbatti le capanne ti ricordi come si dà un pestone giusto? grazie Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.